A Domo la Guardia di Finanza ha arrestato un altro corriere, viaggiava con 5 kg di marijuana in valigia. Fondazione Cariplo Cofinanzia, con bando emblematico, la riqualificazione delle vie di accesso al Sacro Monte Calvario. La goletta dei laghi sui laghi Maggiore e Orta, male il primo, 3 punti su 5 giudicati, fortemente inquinati. Cambia la tipologia di parcheggi nel centro di Omenia, parcheggi a pagamento da lunedì alla domenica, esclusa la pausa pranzo. Domani venerdì a Intra torna a Gustabile, con oltre 100 produttori da tutta Italia in Piazza Ranzoni, tra buon cibo e solidarietà. Baveno lancia il progetto del calcio femminile, parteciperemo all'eccellenza con la voglia di vincere, le parole del presidente Zacchera. E bentrovati dalla redazione di VCO Notizie, in apertura di giornale dunque la cronaca con l'ultimo sequestro di droga ad opera dei finanzieri in servizio sui treni alla stazione Domese, nel bagaglio di una giovane rinvenuti 5 kg di marijuana. Era in possesso di quasi 5 kg di marijuana, la 27enne nigeriana arrestata dalla Guardia di Finanza di Domodossola nei giorni scorsi, a bordo di un treno notturno partito da Milano e diretto a Parigi. Alla vista dei militari impegnati in uno dei frequenti controlli contro lo spaccio di stupefacenti sui treni internazionali, lungo il corridoio del vagone la giovane ha mostrato evidenti segnali di nervosismo. Le fiamme gialle hanno quindi deciso di approfondire il controllo. Di fronte alle domande di rito poste dai militari, la ragazza non era riuscita a spiegare in modo credibile per quale motivo fosse in viaggio. I finanzieri hanno quindi deciso di procedere al controllo dei suoi bagagli. Nel trolley della nigeriana c'erano tre grosse buste con un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Le erano state consegnate all'inizio del suo viaggio per essere portate all'estero e messe sul mercato illegale. La ragazza è stata arrestata, sono stati sequestrati 4.965 grammi di marijuana. Gli arresti per traffico internazionale di stupefacenti messi a segno dalle fiamme gialle di Domodossola sono stati numerosi nelle ultime settimane con importanti quantità di droga sequestrate. Siamo a Donare per Crescere, spazio del giovedì in collaborazione con Fondazione Comunitaria VCO. Da oggi e per sette settimane la presentazione dei sette progetti emblematici 2018 finanziati da Fondazione Cariplo con 5 milioni di euro sono stati illustrati nei giorni scorsi a Teatro Galletti a Domodossola. Iniziamo proprio dall'emblematico che riguarda il capoluogo solano. Dal Borgo della Cultura al Sacro Monte Calvario, patrimonio UNESCO, è il progetto emblematico 2018 finanziato da Fondazione Cariplo a Domodossola. Vede una riqualificazione urbana generale che dalla Borgo interessa Piazza Tibaldi, via Rosmini, via Mattarella e via Calvario fino ad arrivare ai piedi della via Sacra da cui parte la via Crucis con le cappelle che poi conducono al Sacro Monte Calvario. È un intervento importante di riqualificazione che rivede completamente tutto l'assetto viario con l'inserimento di filari piantumati che riprendono quella che era una volta la tipologia della via Rosmini con questo doppio filare che porta alla Madonna della Neve e poi con la continuazione a filare unico fino ai piedi del Calvario. Proprio per dare un percorso prevalentemente pedonale che dal Borgo conduca i visitatori fino a Sacro Monte Calvario. Tempi e costi dell'operazione? Il progetto è un progetto che nella sua globalità ha una valorizzazione di 3 milioni di euro di cui 1 milione e 100 della fondazione e il resto sono fondi comunali. La tempistica sarà quella che viene dettata dal bando e quindi vedremo sicuramente la definizione della progettazione entro la fine di quest'anno e inizio dell'anno prossimo e la realizzazione presumibilmente riguarderà l'annualità 2020 e 2021. La fondazione Cariplo ha dato molto e continua a dare molto alla città di Domodossola. Vi dico che non ci sono parole per esprimere il nostro profondo ringraziamento alla fondazione Cariplo e un po' mi permetto di dire come se ci avesse adottato, come se avesse percepito la passione che anima la nostra comunità e quindi ormai è un percorso, un legame credo inscindibile. Anche perché i progetti che vengono realizzati con il contributo della fondazione Cariplo non sono progetti certo che finiscono nel dimenticatoio, ma sono in realtà progetti che trasformano radicalmente la nostra città e il modo di vivere della nostra comunità. Ed ora siamo agli esiti dei campionamenti effettuate nelle ultime settimane dai volontari della Goletta dei Laghi. Vi abbiamo già riferito nelle passate edizioni del telegiornale rispetto ai dati sulla presenza forte delle microplastiche. Oggi ci concentriamo sui campionamenti microbiologici effettuati sia sul Maggiore che sul Lago d'Orta. E a tinte fosche l'istantanea scattata dalla Goletta dei Laghi a conclusione dei campionamenti effettuati da Lega Ambiente nei giorni scorsi sulle acque dei laghi Maggiore e Orta evolti ad individuare inquinamento microbiologico o meglio contaminazioni batteriche di origine fecale. Per quanto riguarda il Verbano sono quattro le località oggetto di cinque campionamenti. Stresa nei pressi dello sfioratore di Largo Marconi, Arona alla foce del torrente Bevera e poi in Largo Caduti di Nassiria, Lesa alla foce dell'Erno, Dormelletto alla foce del rio Arlasca vicino allo scarico del depuratore. Ebbene solo le acque di Stresa e Lesa hanno superato l'esame. Qui le analisi hanno evidenziato parametri entro i limiti di legge. Marca male per Arona e Dormelletto le cui acque risultano essere fortemente inquinate. Per quanto riguarda il lago Cusiano, il monitoraggio si è concentrato su San Maurizio d'Opaglio, nei pressi del lungolago Beltrami e la frazione Orio di Nonio, vicino alla foce del rio Carboniglio. Entrambi i punti non hanno evidenziato criticità con dati e risultati essere entro i limiti di legge. Questi dati confermano una situazione ottimale su Cusio, Stresa e Lesa, mentre nel basso Verbano permangono criticità, spiega Roberto Signorelli, vicepresidente di Lega Ambiente e gli Amici del Lago. Gravi criticità che continuiamo a rilevare dal lontano 2013. Malgrado importanti investimenti di Acqua Nuovara VCO e delle amministrazioni comunali, purtroppo dobbiamo rilevare che gli obiettivi di rientro nei parametri richiesti per la balneabilità non sono stati raggiunti. Sottolineiamo ancora, dice Signorelli, che per le località lacustre, e a forte vocazione turistica, la qualità delle acque deve essere un requisito minimo indispensabile della loro offerta e questa situazione negativa vanifica in termini di immagine gli sforzi e le attività di promozione a cui il territorio si sta impegnando. Ed ora siamo alla viabilità. A Verbania al via i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di Suna. Sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di Suna, un'opera da 330 mila euro che permetterà di ricavare 23 nuovi posti auto. La zona scelta nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale si trova a lungo corso Nazioni Unite. Il principale problema della frazione di Suna, infatti, è la carenza di parcheggi. Un impegno mantenuto, afferma il sindaco Silvia Marchionini e che risponde obiettivamente per quanto possibile all'esigenza di avere più posti auto sia per gli abitanti di Suna sia per chi vuole fruire del suo lungo lago. Il parcheggio starà su due livelli. A fianco della statale 34 si prevedono su due file parallele 13 stalli con accesso prossimo all'intersezione con via Frua e uscita valle in direzione Pallanza e un marciapiede. Mentre la parte del parcheggio coperta, a livello inferiore, vedrà 10 posti auto disposti a pettine con l'accesso garantito da una rampa. Gli accessi ai due piani saranno così diversi. Per quello a livello strada si passerà dalla statale, per il piano inferiore invece da via Frua. Saranno inoltre realizzati diversi interventi per far rallentare le auto in direzione Pallanza tramite rallentatori ottici prima della curva e con la realizzazione di attraversamenti pedonali opportunamente segnalati. A Domenia invece il Comune ha deciso di mettere in atto una riorganizzazione in tema di parcheggi. Tra le novità importanti dell'estate omenese ci sono anche i parcheggi. C'è stata già una scelta discursa e realizzata del parcheggio delle moto qui in Piazza Salera e poi delle modifiche ai parcheggi bianchi e ai parcheggi blu. Perché queste modifiche? No, per un utilizzo migliore dei parcheggi abbiamo deciso di fare delle modifiche, di provare queste modifiche nel senso che vorremmo adesso portare i parcheggi blu a pagamento dal lunedì alla domenica, perciò anche nei festivi. Però all'interno di questi orari, che prima era dalle 8 alle 19, adesso vorremmo fare la pausa pranzo soprattutto per andare in conto alle esigenze dei residenti. Perciò fare dalle 8 a mezzogiorno e dalle 14 alle 19, però dal lunedì alla domenica. Abbiamo poi fatto anche delle modifiche, soprattutto in Piazza Beltrami, dove c'è stato un intervento abbastanza grosso l'anno scorso. Lì abbiamo deciso di portare tutti i parcheggi di Via Verdi, cioè un centinaio, a essere blu ed invece i parcheggi su strada, sempre tra la Via De Angeli e la Via Verdi, via Cattani, a portare invece bianchi o con disco orario parcheggi liberi. Questo anche per esaudire le richieste che in tal senso sono arrivati dai commercianti della Piazza Beltrami e delle due vie, no? Sì, soprattutto anche per fare la rotazione, perché è un altro discorso, lo facciamo invece davanti all'ospedale. Davanti all'ospedale mi hanno deciso invece di modificare gli orari, oltretutto c'è anche una tariffa più bassa per l'utilizzo di questi parcheggi, di fare invece i parcheggi da lunedì alla domenica, adesso solo dalle 8 alle 14. Questo per permettere l'utilizzo maggiore degli utenti dell'ospedale. Quindi a pomeriggio lì sarà gratuito? Sì, a pomeriggio sarà gratuito. Poi vorrei sottolineare che sono stati anche fatti gli abbonamenti, sono stati creati questi abbonamenti sia annuali, semestrali o trimestrali e poi ha avuto un ottimo successo il pass quelli rosa per le donne gravide o per le famiglie con i bambini piccoli che possono parcheggiare gratuitamente sui parcheggi blu. A oggi sono state fatte 70 richieste. Il sindaco di Domodossola ha scritto al presidente della provincia per richiamare l'attenzione sulle criticità viarie che si registrano lungo la provinciale 166 che collega Domodossola a Villa Dossola. Pizzi lamenta la carenza di segnaletica orizzontale. È quasi totalmente sbiadita da molto tempo, spiega il sindaco domese. Inoltre nelle ore serali il tratto stradale in oggetto è scarsamente illuminato e la combinazione dei due elementi aumenta la pericolosità di percorrenza, soprattutto durante la stagione invernale. Una segnaletica orizzontale ben visibile, con la delimitazione delle corsie della carreggiata, si presenta quindi indispensabile al fine di garantire la sicurezza di tutti coloro che giornalmente la percorrono. Il presidente della provincia Lincio invece ha preso carta e penna per chiedere delucidazioni alla regione sulla futura gestione del servizio mensa negli ospedali del VCO. Il presidente della provincia del Verbano Cusiossola, Lincio, chiede all'assessore regionale Icardi un incontro per parlare del servizio di ristorazione degli ospedali del Verbano Cusiossola. Lo ha fatto anche alla luce dei timori espressi dai rappresentanti sindacali in uno degli ultimi tavoli convocati al Tecnoparco, al quale hanno presenziato anche i sindaci di Domodossola, Omeni e Verbania. L'allarme delle organizzazioni sindacali infatti è datato. Già la scorsa primavera hanno denunciato possibili carenze nel servizio e paventato problemi a livello occupazionale. Lo hanno ribadito di recente in un tavolo istituzionale e la denuncia ha spinto Arturo Lincio a farsi portavoce della questione presso la regione. Le problematiche relative alla qualità del servizio, il perché della scelta del refrigerato e il mantenimento dei livelli occupazionali, scrive il Presidente al collega assessore in regione, sono alcuni dei problemi emersi anche nell'incontro con i sindaci. Le ristrutturazioni previste nei locali di Domodossola, Omeni e Verbania, gli adeguamenti degli impianti elettrici ed idraulici, nonché la dotazione di nuove attrezzature e il centro di cottura in emergenza, sono oggetto di interrogativi di attenzione. Sottolinea ancora Lincio nella lettera inviata agli uffici di corso Regina Margherita Torino. Il Presidente della Provincia Azzurra si congede dall'assessore regionale, sottolineando come la problematica sia oggi anche fonte di preoccupazione, sia per i pazienti ricoverati che per i laboratori del comparto spedaliero, anche loro utenti del servizio. Domani venerdì a partire dalle 19 in Piazza Ranzoni a Intra torna gustabile. Buon cibo, musica e soprattutto il piacere di stare insieme per un fine benefico. Sono più di 100 i produttori da tutta Italia che porteranno a Verbania le loro eccellenze. La versione 2019 di Gustabile cambia formula. Piazza Ranzoni sarà aperta a non più di mille persone, biglietto 35 euro, per offrire a visitatori e produttori la possibilità di conoscersi meglio. Tre i progetti finanziati con il ricavato. Campedu, campus estivo per bambini e ragazzi affetti d'autismo, il Caffè della Memoria, uno spazio d'incontro per persone affette da Alzheimer, e l'acquisto di materiali e attrezzature per migliorare la vita delle persone con Volami, neoassociazione di giovani verbanesi. Coinvolta per la prima volta l'associazione Gente di Lago e di Fiume. Gustabile è promosso da Cis Verbano con Eros Buratti. Il palco sarà attivo già dalle 18.30 con pillole di stelle, parole dai protagonisti. Per cercare di comunicare al meglio le finalità dell'evento, verranno intervistati i protagonisti di Gustabile, produttori, volontari, operatori dei servizi e famiglie che usufruiranno dei fondi raccolti. Intorno alle 18.45 incontro sul tema il formaggio, un valore aggiunto nella ristorazione con gli chef stellati Marco Sacco e Max Celeste. Saranno inoltre presenti Claudio Vivalda, responsabile pubblica relazioni del ristorante Antica Corona Reale Cervere di Cuneo, il restaurant manager di Villa Crespi e lo stesso Eros Buratti. E lo scorso fine settimana ha riaperto Palazzo Silva a Domodossola con un nuovo allestimento e con la mostra La stanza in cui mi piace stare solo. Un progetto, quest'ultimo, che ha coinvolto anche artisti diversamente abili. Una decina a quelli del Cisossola, che da domani e per tutti i venerdì d'estate, dalle 16 alle 18, faranno da Cicerone ai visitatori. All'interno di Palazzo Silva una mostra nella mostra. Esatto, la stanza in cui mi piace stare solo. È una mostra che abbiamo fortemente voluto per raccontare come gli artisti con disabilità possono dire tanto, forse anche inaspettatamente di più rispetto agli artisti che oggi noi possiamo vedere nelle grandi mostre d'arte contemporanea o sul mercato dell'arte contemporanea. A Domodossola si svelano le stanze di Palazzo Silva con una mostra che mette in dialogo artisti che hanno lavorato con artisti con disabilità del Cisossola e di Idea Copernico di Milano, che è un centro, un atelier per artisti con disabilità inserito all'interno di un CDD, che è il CDD Il Melograno, cioè un centro di urno per disabili. Gli artisti hanno lavorato con Gianluca Quaglia, che è un artista che si occupa appunto di lavorare con queste straordinarie persone che hanno tanto da raccontare e soprattutto la cosa bellissima è che ognuno di noi, nel segreto di noi stessi, ha una stanza in cui gli piace stare solo. A volte, per esempio, andiamo alla ricerca di cose segrete proprio che non vogliamo raccontare e però qualcuno le racconta. Qui ce n'è uno che... Infatti, io volevo chiedergli come ti sei trovato nei panni dell'artista? Ben bene, eh? Bene? Bene. Contento di come hanno collocato la tua opera? Sta bene qua? Ah, ma la collocata lui, eh? Sì, sì. È vero che hai messo tu la tua bicicletta? Sì, un po' vecchiotta. Però è bello, anche il palazzo è un po' vecchiotta. Sì, è un po' vecchiotta, anche il palazzo. E quindi stanno bene insieme? Sì, tutto bene. Sei contento? Paolo. Tra gli artisti, i ragazzi del CIS Ossola, quanti sono stati coinvolti? Ma sono complessivamente quasi una decina e invito tutti a venire a vedere questa mostra quando il venerdì i ragazzi presenteranno le loro opere e spiegheranno che cosa hanno voluto dire con questo loro lavoro. Ecco, per tutti i venerdì d'estate ci sarà questo appuntamento? Sì, sì, tutti i venerdì d'estate. Gli enti, in questo caso il CIS e il comune di Domodossola, hanno fatto questo evento, hanno elaborato per fare un evento che sia inclusivo. Questa deve essere una città inclusiva, inclusiva non soltanto per le persone disabili, ma anche per altri che hanno difficoltà. Questo è un passo avanti, veramente un grosso passo. Da sabato prossimo fino al 28 luglio ad Arona, le opere degli artisti di Arte ad Arona esposte nelle vetrine dei negozi della città. Dal 14 al 28 di luglio, Arte sul lago e nelle vetrine. Nel corso di Arona, ma anche nelle zone limitrofe, i soci di Arte ad Arona hanno allestito la loro temporanea estiva. Come si struttura, Sonia? Allora, abbiamo cercato di coinvolgere più vie di Arona, non soltanto le vie del centro, che sono le più frequentate, ma anche le zone più periferiche, in modo da poter coinvolgere più negozianti possibili in questa bella iniziativa. Che sono sempre di più ogni anno? Sono sempre di più, anche quest'anno sono un'ottantina di esercenti che hanno voluto collaborare molto contenti di questa iniziativa e addirittura ci creano la vetrina, di solito sull'opera. Vetrine a tema, quindi un modo di vivere anche un po' diversamente questa bellissima città, fino al 28 di luglio, ma volendo c'è chi prolunga anche, perché la vostra iniziativa in questi anni è stata davvero sostenuta da tanti. Esatto, ci sono molti negozianti che trattengono le opere anche più avanti, visto che per tutto il periodo estivo ci sono delle belle iniziative organizzate dall'amministrazione comunale di Arona insieme alla Proloco e quindi ci sono anche le aperture serali dei negozi e quindi la gente può, passeggiando anche dopo cena, vedere queste opere. Quale sarà il prossimo appuntamento poi a Spazio Moderno? Allora, lo Spazio Moderno ci rivedremo in autunno, invece abbiamo un'altra bella manifestazione all'aperto, avremo il 14, quindi questa praticamente domenica per tutto il giorno sul lungolago di Arona, avremo l'esposizione di 25 soci, alcuni dei quali, oltre alle opere, dipingeranno in plein air. Ed ora siamo allo sport, in apertura il calcio, Baveno lancia il progetto del calcio femminile, parteciperemo all'eccellenza con la voglia di vincere, le parole del presidente Zacchera. Si potrebbe pensare a un progetto partito sull'onda del successo riscosso dalle azzurre del pallone impegnate nelle scorse settimane in Francia, invece no, il Baveno al progetto lavora da tanto tempo. Non mancano le novità in Seno alla Baveno per la stagione 2019-2020, a cominciare dal nuovo presidente, a cominciare da una nuova squadra femminile, insomma c'è tanta, tantissima carne al fuoco. Sì, direi di sì, le novità più grandi le hai detto tu, la prima squadra femminile che iscriveremo al campionato di eccellenza, la Rosa è già formata, abbiamo già l'allenatore, sarà Pierguido Pissardo, venerdì faranno il primo allenamento qua ai Galli e con loro iscriveremo Under-15, Under-12, sempre campionato regionali, più una squadra delle piccoline. Dunque questa è la novità principale di questa nuova stagione sulla quale puntiamo molto e crediamo molto. Ecco, insomma, è un progetto che non è nato nelle ultime settimane ma già avevate in Seno e che soprattutto è un progetto che guarda lontano perché è un progetto ambizioso, la volontà è quella di scalare sicuramente un gradino e magari il sogno addirittura due gradini arrivare in Serie B. Esattamente, il progetto era in Seno alla società già da qualche tempo, poi con la mia venuta io ho sposato e ho voluto fortemente già da questa stagione fare la prima squadra e le giovanili e gli altri componenti della società mi hanno seguito e adesso comunque c'è veramente tanto tanto entusiasmo, abbiamo incontrato le ragazze della prima squadra che hanno ancora più entusiasmo di noi di far bene, l'obiettivo è quello di salire di categoria subito quest'anno e poi vedremo, speriamo poi l'anno prossimo di giocarci a Serie C con il femminile. Ti chiedo un'altra cosa, legata invece al settore maschile, quali saranno gli obiettivi con il nuovo allenatore, con Rino Molle? Gli obiettivi per l'eccellenza maschile, abbiamo un'ottima squadra e l'obiettivo è il play-off sicuro, questo è l'obiettivo minimo per questa stagione, la rosa è chiusa, abbiamo degli ottimi giocatori, il nuovo mister Guerino Molle è più carico di tutti per far bene, dunque anche qui speriamo bene, ogni domenica a Galli ci sarà da divertirci. Ed ora siamo alle bocce Raffa, largo ai giovani e ai Paralimpici nel prossimo servizio che vedremo, Carazzani e Costantini, nuovamente campioni italiani. Domenica scorsa in Sardegna, Anna Maria Carrazzi e Massimo Costantino si sono riconfermati i campioni italiani alle Special Olympics davanti al loro allenatore, Presidente Marco Albertini. Nelle gare di comitato è davvero il caso di dire largo ai giovani, sono loro a farla da padroni, sia Vedasco con Mazzolini e Tondina, sia a Doagrate che a Dolegio Castello, con Simone Albini, prima da solo e poi con Ivan Terzaghi e infine alla Verta col sesto centro stagionale di Martinoli. A Vedasco, per il quattordicesimo trofeo Città di Stresa, presente il sindaco Giuseppe Bottini, Roberto Mazzolini e Lorenzo Tondina di Possaccio battono in finale Gaetano Ielpo e Domenico D'Agostino della Bolongaro. Al terzo posto è il navigato Albino Diverio, ha guidato da par suo il giovanissimo Lorenzo Rocco dell'Ampi, quarti Massimo Daga e Fabio D'Altoè della Fratelli d'Italia. La sera dopo, ad Agrate con Turbia, uno scatenato Simone Albini del Basso Verbano, finalmente si porta a casa il pallino d'oro e festeggia dopo lunga attesa. Vince il pallino d'oro, tre finali perse, battendo Zarini, Rama e Lauti in finale. Albini in finale ha battuto Gianni Lauti della Stella, al terzo posto Pierangelo Varalli, al quarto Stefano Cavigioli. Lo stesso Albini, in coppia con Ivan Terzaghi, sale sul più alto gradino del podio a Doleggio, rischiando moltissimo nella semifinale contro Giancarlo Corna e Maurizio Segato della Bottinelli, che hanno chiuso terzi. Poi la finale, che vede sconfitti, Amelio Pacini e Sergio Pasmin, Bottinelli, quarti, Santomazza e Valentino Poletti. Arriva anche la sesta vittoria stagionale per Omar Martinoli della Fratelli d'Italia, prossimo a rivestire la maglia del Possaccio. Nel trofeo Grabber di Laverta, il gravellonese, batte in finale Andrea Podico della Sussellese. Al terzo posto Marco Legnazzi della Bolongaro, al quarto l'inossidabile Albino di Verio dell'Ampi. Prima di fine mese si chiudono altre gare all'intrese, a Gattugno, a Baveno col classico Trofeo Barchi e infine a Doleggio Castello. Nel frattempo le promozionali impazzano, anche e soprattutto dal 16 luglio a Vedasco, dove parte una gara di terne con otto serate e una finale da seguire assolutamente. Bene, con le bocce termine il telegiornale, vcozzurativu.it per gli aggiornamenti. Grazie per averci seguito. Arrivederci alle prossime edizioni.